Il movimento turismo del vino celebra con Vinitaly il sodalizio tra enoturismo, musica e sociale. Nel nuovo spazio espositivo, in collaborazione con la fiera, MTV lancia la colonna sonora di cantine aperte e dà il via al contest Suono da bere, che associa a vino e territorio una canzone, descrivendone caratteristiche e personalità in un tweet. Un'iniziativa che chiama a raccolta durante la manifestazione sulla rete i 4 milioni di enoturisti in giro per lo stivale, che ogni anno generano un giro d'affari pari a 5 miliardi di euro. Nel corso della Kermess, i partecipanti al contest, nato per avvicinare sempre più i giovani alla cultura del vino attraverso il web 2.0, riceveranno in regalo i braccialetti made in carcere, realizzati con materiali di recupero dalle detenute delle carceri femminili italiane. Interamente dedicato a cantine aperte, il nuovo stand sarà animato da una speciale playlist musicale del sound designer Paolo Scarpellini, che domenica 25 maggio farà da colonna sonora l'appuntamento più amato di MTV, ideato oltre 20 anni fa e seguito da un milione di turisti. Sempre a tema musica, sarà anche il contest Suona da bere a cui si potrà partecipare già durante il Vini Italy, utilizzando l'account chiocciola MTV underscore Italia, nello spazio MTV. Basterà pubblicare un tweet indicando un territorio, una denominazione o un vitigno in abbinamento al titolo di una canzone o ad un gruppo musicale e aggiungere tre aggettivi che ne spieghino caratteristiche e peculiarità. Per aderire il suo tempo fino al 22 maggio, i tre migliori tweet, selezionati da una giuria composta da Daniela Mastro Berardino, Stevie Kim e Paolo Scarpellini, saranno svelati il 25 maggio, in occasione di Cantina Aperte, sul sito e sui canali social del Movimento Turismo del Vino. In palio, un weekend per due persone in una delle cantine Socied Italia. Sarà richiesto di in qualche modo vivere in un Twitter l'esperienza del vino attraverso la musica e soprattutto di descriverci i motivi di questo abbinamento, le suggestioni di questo abbinamento in soli tre aggettivi. Per cui vorrei dire un modo per capire anche come viene vissuta l'esperienza del vino dai giovani che sono i principali utenti di Twitter. Quindi tante iniziative ruotano intorno a questo che il cuore di Cantina Aperte, l'edizione numero 22. È chiaro che materialmente non è più una novità aprire le porte delle cantine, però questo è il segno di come siamo in grado di poter comunque mantenerci all'appasso con i tempi e di vivere in una chiave che è importante, che è nel segno, ripeto, della contaminazione, perché il vino è socializzante. Non dimentichiamoci mai questo aspetto perché è questo che è autenticamente italiano.